eccoci arrivati ai saluti di fine anno e con questa occasione oltre a fare i saluti volevo fare dei grandi ringraziamenti volevo innanzitutto ringraziare tutti i miei collaboratori perché grazie a loro un'annata iniziata con delle difficoltà si è trasformata in un'annata vincente a ringraziare dalla serie c savino e daniele che hanno fatto un grande lavoro quest'anno con la prima squadra e poi volevo ringraziare luca perché ha portato a casa dei grandi risultati con questo settore giovanile maschile volevo ringraziare francesca che è stata una collaboratrice eccezionale perché oltre ad allenare queste ragazze e a portare a casa dei buoni risultati dei bei risultati nel settore femminile è stata anche un buon braccio e mi ha dato anche un sacco di consigli poi volevo ringraziare valentina che ha allenato un bellissimo gruppo di giovani speranze di giovani speranze e gianmarco ed irene gianmarco con la sua terza divisione al suo esordio in terza divisione irene che ci ha che è stato un nuovo acquisto e c'è ci ha aiutato a ad allenare questi piccolissimi del mini volley poi volevo ringraziare ancora il mio braccio destro emiliano che dire di emiliano insomma lo conoscete tutti quello che è insomma che dobbiamo fare no scherzo comunque senza di lui sarebbe stata veramente un anno duro per me invece anche noi abbiamo portato a casa dei buoni risultati fabbio anche fabbio con i suoi seniors senior è riuscito a portarsi a casa una bella coppa e quindi anche lui anche a lui grandi ringraziamenti sul settore dirigenziale su tutti i collaboratori da quell'altra parte voglio ringraziare mauro voglio ringraziare giancarlo i nuovi acquisti roberto marco e antonio che si sono dati da fare e hanno scoperto cosa vuol dire far parte di questa grande famiglia per ultimo ma non per ultimo un ringraziamento a giorgio che vi lo posso garantire sono un'ora che stiamo provando questi saluti e non ha perso la pazienza quindi grazie giorgio grazie a tutti ringrazio tutti gli atleti della volley team e a tutta la fiducia che hanno dato in noi e se continuate a darcela vedrete che arriveremo lontani grazie mille a settembre e carichi buone vacanze